Questione sanità provinciale sempre in primo piano. All'indomani dell'esultanza dei sindaci dell'Alta Valle e dei rappresentanti del Comitato per la Difesa della Sanità di Montagna, che ieri sono tornati dall'incontro a Milano con il governatore Fontana, gli assessori Gallera e Sertori e la consigliera Pedrazi, con l'assicurazione che l'ospedale Morelli tornerà a stretto giro di posta alle attività pre-Covid, il consigliere regionale Michele Usuelli, colui che poco più di un mese fa è stato con la sua mozione di fatto il salvatore dell'unità spinale del Morelli, vuole fare chiarezza. Malgrado l'approvazione all'unanimità di un'apposita mozione in consiglio regionale a suo nome, infatti sulla preservazione delle unità di midollo spinale di Lombarde, tra cui quella di Sondalo, per qualche oscuro motivo il consigliere di più Europa Radicali ieri non è stato invitato a quell'incontro volto a discutere delle sorti dell'ospedale Morelli di Sondalo in relazione al piano di riorganizzazione ospedaliera del territorio. In questa occasione la Giunta ha dato dimostrazione di un approccio poco serio e trasparente nella ricerca dei contributi più idonei per il ripensamento del nosocomio di Sondalo. Mi auguro che simile sviste non ricapitino, ha concluso il consigliere Usuelli. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, considerato che il sindaco di Sondrio e presidente della conferenza dei sindaci, Marco Scaramellini, ha annunciato che a propria volta chiederà un incontro al presidente Fontana e all'assessore Giulio Gallera. La nostra provincia ha bisogno di un cambio di marcia perché la situazione del sistema ospedaliero e della sanità di territorio erano giunti ancora prima dell'emergenza Covid ad un livello non più accettabile, dichiara Scaramellini. Lo studio prodotto dal Politecnico di Milano, commissionato da Regione Lombardia, ha aperto la discussione e tutti i soggetti istituzionali si sono attivati per valutarlo e per produrre osservazioni. Il comune di Sondrio, come la maggior parte dei soggetti istituzionali, si è sempre mosso all'interno dei tavoli istituzionali, aprendosi al confronto con spirito collaborativo e con l'obiettivo di portare un contributo a tutta la sanità della provincia. Anche quando il comitato, a sostegno dell'ospedale di Sondalo, ha alzato i toni, minacciando di disertare i tavoli istituzionali, il comune di Sondrio, i rappresentanti degli altri comuni e gli enti partecipanti agli appuntamenti istituzionali hanno sempre auspicato che i comuni del mandamento dell'Alta Valle ci ripensassero e accettassero di confrontarsi in maniera costruttiva per portare le proprie legittime istanze. Ciò non è avvenuto, sottolinea ancora Scaramellini, perché i sindaci dell'Alta Valle e il comitato hanno espressamente dichiarato che sarebbero rientrate ai tavoli di lavoro soltanto se le loro istanze e la loro linea fossero state accettate come prioritarie e seguite dagli altri, dichiarando pubblicamente a più riprese che non vi erano spazi di mediazione. Questo atteggiamento è apparso inaccettabile ai più e quindi i mandamenti di Chiavenna, Morbegno, Sondrio e Tirano, che rappresentano più dell'80% dei cittadini della provincia di Sondrio, hanno costituito un gruppo di lavoro all'interno della conferenza dei sindaci per predisporre un documento comune contenente osservazioni critiche al piano del Politecnico con spirito costruttivo. Tale documento, che sarà depositato a brevissimo, conterrà istanze, osservazioni, anche critiche, e richieste concrete, tutte volte a migliorare la sanità pubblica provinciale nel suo complesso e non soltanto lo stato di un ospedale o di un ambito a discapito degli altri.